buongiorno buon lunedì buon lunedì pina mi sei mancato anche tu mi sei mancato tantissimo riccardo come stai riccardo vieni qui esatto chiamiamo riccardo 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 e riccardo e qui eccoci prima settimana la prima settimana è passata è volata eravamo un po in ansia si sa come come andrà se saremo una coppia che funziona questo lo lasciamo dire al pubblico però io ti devo ringraziare ti devo ringraziare perché mi hai motivata oh meno male meno male pina anche tu insomma sicuramente nel nel lavoro svolto poi durante durante la settimana questa settimana altri ospiti e tanti ospiti e tanti temi d'attualità altro giro di boa parleremo sempre di attualità parleremo chiaramente di quello che sta accadendo l'italia e nel mondo insomma nella nella prima parte quest'oggi parleremo della questione legata ai balneari perché la stagione estiva è partita è partita eh con sia tante problematiche relative al lavoro stagionale alle difficoltà tante difficoltà ma gli italiani non non rinunciano al mare esatto esatto perché è record insomma in tante eh in tante regioni è record per le presenze negli stabilimenti eh balneari e nelle località eh estive e questo e poi avremo un artista sì avremo un artista perché ci racconterà eh insomma le le sue opere e anche il percorso che ha fatto no durante chiaramente la eh sua vita artistica parleremo di creme e bellezza quest'oggi con un ospite in presenza pina perché parleremo di capelli uno dei due sarà il martire esatto sarà la vittima della nostra parrucchiera eh sarei tu eh chissà vediamo anche tu no ti puoi prestare con questo codino coi capelli lunghi la parrucchiera si divertirà vediamo a farti un'acconciatura assolutamente vediamo e poi la nostra Paola Aspre che torna come sempre la splendida Paola Aspre in diretta e poi pina ti porterà in vacanza ormai i nostri telespettatori eh lo hanno capito ogni giorno faremo un viaggio all'interno della nostra Italia per scoprire tutte le bellezze sia legate ai eh paesi ai borghi più nascosti più spettacolari oggi saremo un po' esploratori sì è vero è vero è vero lo scopriremo con il nostro ospite ma partiamo appunto con la puntata perché eh oggi parleremo appunto della questione legata ai balneari della questione eh legata a come sta andando eh questa questa stagione delle problematiche che stanno eh incorrendo appunto gli imprenditori e eh soprattutto faremo anche una fotografia per quanto riguarda il il turismo balneare pina intanto che si collega l'ospite io direi di ascoltare insieme un servizio realizzato dal nostro Tommaso Franti prima di appunto ascoltare il servizio ti la vado a leggere eh proprio qualche dato che che ci racconta la situazione e eh ci racconta una fotografia no relativa a quello che stiamo che stiamo vivendo esatto anche perché in questo periodo le presenze ne parlavamo no relative al ai luoghi di mare del nostro paese c'è un più 40 per cento di Campania e Puglia seguono Toscana con un più 30 per cento Liguria ed Emilia Romagna con un più 25 per cento e anche le isole maggiori con un po' eh un più 25 per cento e però eh c'è un dato negativo che nel quale ne parleremo anche con il nostro ospite ovvero una mancanza di circa il 33 per cento pina di chi lavora agli stabilimenti eh balneari infatti eh poi eh gli sindaci ma anche eh le istituzioni dei vari paesi lanciano l'allarme e per una problematica eh importante eh di di questa di questa stagione e poi la questione eh relativa alla privatizzazione delle spiagge ne abbiamo parlato tanto anche sempre meno spiagge esatto nelle nostre puntate ne abbiamo parlato tanto perché ehm il 2023 eh è vicino e quindi eh sono preoccupati chi eh insomma lavora con gli stabilimenti balneari per la questione legata alle concessioni eh balneari e la possibilità chissà magari di perdere tutto il lavoro fatto e poi parleremo anche di un'iniziativa il biliardino dei vuoi spiegare che cos'è? Allora in realtà Pina eh qui nasce perché eh perché c'è stata una polemica all'inizio dell'estate c'è stata una polemica eh relativa a eh l'utilizzo o meno eh del del biliardino perché eh si era accumunato si era deciso tra virgolette di accumunare il biliardino a un gioco d'azzardo anche se eh insomma il gioco per eccellenza no dell'estate italiana è comunque gratuito o comunque non si vince eh non si vincono soldi eh ma ci si diverte tra bambini ragazzi insomma anche chiaramente bambini e quindi era stato accomunato al gioco d'azzardo è arrivata chiaramente la polemica eh relativa a eh chi eh magari ha eh questo questo gioco all'interno dei propri stabilimenti balneari e c'è stato un dietrofront del del governo su questo io penso che sia anche un'iniziativa che eh favorisce la socialità in ogni caso certo anche perché abbiamo visto no tante scene eh di bambini e ragazzi eh sul sulle spiagge e poi a chi non è capitato di trovarsi esatto il medico torneo di biliardino eh di non partecipare a un torneo di biliardino quindi esatto esatto quindi diciamo che la questione è eh rientrata e questi sono i temi principali che approfondiremo anche con il nostro ospite che si sta appunto eh apprestando a collegarsi ma per fare una fotografia generale come dicevi tu bene prima eh Pina andiamo a vedere il servizio confezionato dal collega Tommaso Franchi che appunto ci racconta la questione legata alle spiagge e di quello che sta accadendo. Scontro acceso nella partita dei balneari e la gara non si gioca solo sulle spiagge. Da tempo al centro del dibattito c'è la questione legata alla tassazione dei biliardini con loro anche flipper, freccette e tutti i classici giochi che si possono ritrovare all'interno dei lidi. I balneari proprio per questo motivo si dicono preoccupati per la tassa e le multe in arrivo per tenere il biliardino nel proprio stabilimento anche se a uso gratuito. L'agenzia delle dogane risponde che questa imposta esiste da vent'anni e niente è cambiato nella regolamentazione anzi per poter usare il calcio balilla ora basta un'autocertificazione. Questo è uno dei tanti motivi che ha portato alla credine interna tra partiti e tra balneari stessi. Questo via vai di voci di conseguenza ha scatenato un tantam sia mediatico sia sulle spiagge italiane con alcuni titolari degli stabilimenti che già hanno provveduto a smontare biliardini pur di non incappare in una sanzione. Nel frattempo si continua a discutere sul tema delle concessioni balneari in particolare dopo il recente voto sulla direttiva Bolkenstein. Sono proprio queste l'ultimo terreno di scontro tra la Lega Salvini Premier e l'area politica del presidente Giovanni Toti. Non è un caso che Italia al centro del governatore Toti abbia votato contro l'emendamento che aveva il parere negativo del governo per escludere la categoria dalla direttiva Bolkenstein. Se da una parte si assegnano le bandiere blu e si apprezza il mare più bello d'Italia, dall'altra la realtà è un'altra e purtroppo è più difficile da affrontare di quella dell'acqua cristallina, delle spiagge incontaminate e del sorriso ormai dimenticato sul volto dei balneari. E appunto abbiamo visto la fotografia. Ringraziamo Tommaso Franchi per questo ottimo servizio. Grazie Tommaso. Tommaso Franchi appunto per il servizio relativo alla fotografia legata ai balneari e chiaramente alla questione legata ai dati che arrivano dalle principali spiagge italiane. Chiaramente dati interessanti per tre comparti che rappresentano un po' l'estate italiana. Quella dei clienti che accederanno chiaramente alle spiagge, quella degli imprenditori che dovranno far fronte ai tanti aumenti relativi alle spese e poi chiaramente a chi lavora all'interno del comparto balneare. Tra l'altro Riccardo sono molto apprezzati dai clienti sia italiani che stranieri i servizi nuovi offerti come quelli direttamente sotto l'ombrellone, ovvero è possibile attraverso Whatsapp chiedere per esempio un pasto, un drink, cioè alla fine l'italiano si mette lì, si fa coccolare, manda un messaggio Whatsapp ed ecco qui che viene servito direttamente sul lettino. Esatto, diciamo che gli stabilimenti balneari grazie anche alla tecnologia ma anche alle lezioni, chiaramente avute dalla questione relativa ai distanziamenti, alle problematiche relative al Covid hanno trovato dei metodi anche molto comodi per far sfruttare e far avere un'esperienza sicuramente migliore al cliente che accede allo stabilimento balneare. Però appunto arrivano le questioni legate ai lavoratori stagionali, problematiche relative ad esempio al salario minimo, al reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato con il nostro ospite. Eppure sono ottimi i numeri delle prenotazioni proprio per il mese di luglio e agosto, un grande segnale speriamo di speranza per la nostra economia e sarebbe anche interessante capire se siamo tornati ai numeri pre-pandemia. Sì, sì, perché diciamo che i numeri sono molto positivi per quanto riguarda chiaramente il primo mese di vacanza, anche perché comunque le restrizioni soprattutto all'interno delle spiagge sono cadute con l'utilizzo della mascherina e l'utilizzo di tutti quei presidi poi all'interno degli stabilimenti balneari, dei ristoranti. Sarebbe interessante capire adesso come si attrezzeranno i lì, di se effettivamente a causa del numero dei contagi che è sempre più in aumento, se torneremo proprio a tutte le restrizioni della pandemia, quindi se nuovamente saremo sottoposti alla misurazione della temperatura, se bisognerà utilizzare le mascherine anche all'interno degli stabilimenti balneari, chissà, perché qui è tutto un po' in divenire. Sì, anche perché comunque Pina bisognerà vedere il quadro epidemiologico e soprattutto la curva relativa ai contagi. Diciamo che per il momento non si vedono effetti negativi rispetto alla questione legata alle presenze all'interno degli stabilimenti balneari e vedremo poi nei mesi più caldi, quelli di luglio e agosto, dove la stagione è più sicuramente popolosa di turisti, vedremo lì. Ecco, a proposito di stagione popolosa, ma secondo te Riccardo qui, la costa questa laziale, qual è la zona più gettonata? Abbiamo capito dalle nuove generazioni la zona di Fregene. Sì, è vero. Ma come mai? Tu ce lo puoi spiegare perché sei proprio autoctono. Diciamo Pina che sostanzialmente le zone, quelle del panorama laziale, che poi sono quelle più popolate nei mesi ad esempio di giugno, no? Perché comunque le persone ancora non tutte sono andate in ferie e quindi magari sfruttano il weekend per farsi una o due giornate di mare. Quindi è una questione di vicinanza? Sì, è una questione di vicinanza, di comodità, ma anche di servizi proposti perché obiettivamente le persone che vogliono accedere magari alla spiaggia, non tanto la spiaggia libera per doversi diciamo organizzare in toto, ma magari preferiscono il lido con l'aperitivo, con i servizi dedicati e quindi quelli fanno gola a tanti turisti e tanti romani che vanno sul litorale per quelle ore diciamo così di mare in attesa delle ferie. E poi ci sono anche delle località apprezzatissime dalle famiglie, per esempio Santa Marinella è un posto davvero tranquillo. Sì, diciamo che alcune zone del nostro, diciamo delle nostre coste laziali sono comunque apprezzate dalle famiglie anche lì per la questione relativa ai servizi perché è chiaro se ci sono servizi dedicati alle famiglie come animazione all'interno degli stabilimenti ed è anche qui la critica dei lavoratori stagionali perché è chiaro se mancano non solo bagnini a salvaguardare le coste ma anche ad esempio animatori, barman, bartender, ne parlavamo con il presidente appunto di Asso Intrattenimento, è chiaro che i servizi all'interno degli stabilimenti balneari calano e quindi cala anche la richiesta e la proposta offerta ai turisti. Io vorrei rassicurare intanto il pubblico, io e Riccardo non siamo logorroici questa mattina ma stiamo avendo dei problemi con il nostro ospite che non si riesce a collegare quindi vi racconteremo noi quello che riusciremo a... che sta accadendo all'interno del panorama anche perché Pina la scorsa settimana sono uscite la classifica delle vele blu all'interno del nostro paese e noi ne parleremo di questo argomento. Esatto ne parleremo in settimana con un lieto ospite perché? Perché è arrivata questa classifica che racconta le bellezze del nostro paese e soprattutto quelle spiagge che sono considerate il top sul territorio nazionale. Deve le vele blu, anche la bandiera blu no? Sì esatto. La bandiera blu a volte, a volte, a volte si critica un po' eh? questo premio diciamo che viene dato c'è chi dice forse il comune fa dei magheggi forse effettivamente l'acqua non sempre è così limpida, pulita, cercheremo di capire effettivamente se il premio è dato per quanto riguarda l'impidezza dell'acqua ma non solo. Anche perché è un po' un'unione no? È un po' un'unione tra servizi, mare pulito. Esatto, prima in classifica c'è la Sardegna, rimane la Sardegna che è una delle regioni con il mare più bello d'Italia ma anche il mondo. Riccardo, non ti sbagliare perché io sono siciliana e potrei risentirmi. Cito anche la Sicilia, San Vitolo Capo mi è rimasto nel cuore prima quindi c'è da celebrare anche la Sicilia anche perché all'interno della nostra redazione non solo tu eh Alessia Di Bella potrebbe offendersi dalle mie dichiarazioni però sicuramente anche la Sicilia ha avuto tanti luoghi celebrati appunto con questo premio ma il premio è arrivato anche per i laghi perché anche per i laghi esatto perché in estate comunque c'è da dire che il turismo dei tanti che popolano le spiagge italiane e il nostro territorio è anche un turismo lacustre. Ecco a proposito di lago vediamo se la regia ci aiuta dovremmo avere delle immagini del lago del lago di Vico se non sbaglio. Esatto, ne parleremo anche nella parte finale della nostra trasmissione anche perché comunque il turismo lacustre è da sempre rappresentato una valida alternativa per quanto riguarda il turismo estivo perché diciamo ci si divide tra mare e lago. Tu cosa preferisci? Guarda Pina, eccolo guarda che... Oh eccolo, ringraziamo il nostro Lorenzo in regia per il lavoro. Oggi rinominato Lorenzo il Grande. Per il lavoro che sta svolgendo eh. Da solo eh. Da solo, lavoro di regia, risponde al telefono, insomma poliedrico il nostro Lorenzo. Il nostro Lorenzo il Grande, sì. Esatto, e queste le immagini relative appunto al lago. Al lago di Vico, è proprio qui vicino, pochi chilometri da Roma. Rispetto al mare comunque ha sicuramente un fascino diverso il lago, eh. A molti... E allora dimmi perché, ma... Allora diciamo prima... Preferisci il lago? Io preferisco il mare. Oggi il mare. Io preferisco il mare, più che altro per anche una questione relativa, come dicevamo prima, ai servizi e anche proprio alle località in generale. Eh, il lago magari preferisco in autunno, a settembre, quando le temperature scendono e si unisce magari un bagno, se è possibile chiaramente, a una magari passeggiata. Hai fatto un bagno nel lago? Sì, sì, assolutamente. Una volta nella vita? Assolutamente. Cosa hai provato? Allora diciamo è diversa la sensazione, eh. Che sensazione hai provato? Eh beh, diversa la sensazione, chiaramente essendo un'acqua più ferma, un clima anche diverso e soprattutto un panorama diverso, è per quello che ti dicevo per quanto riguarda l'impatto naturalistico, eh. Perché magari chi preferisce il lago piuttosto che il mare unisce al bagno e alla spiaggia, diciamo così, a una passeggiata nel bosco, a una passeggiata tra la natura e quindi chiaramente è anche un turismo diverso, no? Un turismo anche più raccontato dalle tante guide. Di esplorazione. Sì, dalle tante guide che animano chiaramente i percorsi lacustri all'interno della nostra Italia, anche perché chiaramente i laghi poi più rinomati, come anche da classifica delle vele blu, sono quelle relative al Trentino Alto Adige, dove chiaramente unita al lago c'è anche tutto un panorama enogastronomico e un panorama naturalistico da scovare. E invece col fiume, col fiume come te la cavi? Allora, diciamo che lì più che altro credo sia un turismo più settembrino, eh, più autunnale. Un turismo coraggioso perché l'acqua gelida e ci vuole coraggio per entrare in acqua. Un turismo dove vivere, ecco, queste immagini che ad esempio stiamo vedendo. Bevendo, stiamo bevendo. Esatto, con magari le cascate ad animare, insomma, i paesaggi e, insomma, anche delle guide turistiche ad hoc che raccontano il territorio. Come del resto abbiamo scoperto la scorsa settimana, no, che abbiamo ospitato, Pina, una guida turistica all'interno del nostro programma che ci ha raccontato, insomma, anche i turisti come si muovono. Adesso dobbiamo capire cosa fare perché il nostro ospite ha risposto, mancano pochi minuti per andare in pubblicità e decideremo fra un pochino. Esatto, esatto. Decideremo fra un pochino. Quando la regia ci dà il via, noi... Almeno lo salutiamo, lo facciamo entrare, lo salutiamo e gli chiederemo due, tre battute. Esatto, esatto. Esatto, intanto, Pina, andiamo avanti perché io chiederò anche all'ospite che abbiamo in collegamento un chiarimento anche, una fotografia sui dati, quelli che ci raccontano i dati, appunto quelle relative alle regioni italiane, magari le più visitate, le più rinomate, ma anche e chiaramente quelle anche più criticate, perché alcune volte si criticano determinati luoghi per, ad esempio, la troppa folla all'interno dei luoghi, insomma, della movita. Poi dipende anche da chi vive quel luogo, no? Mi sa che era uno scherzetto perché non ce l'abbiamo proprio. Ah, perfetto. Non ce l'abbiamo, ma noi abbiamo chiacchierato. Sì, sì, noi abbiamo chiacchierato, Pina. Abbiamo scaldato i motori. Abbiamo scaldato i motori, continueremo con la nostra puntata, la chiamanestate e chiaramente parleremo di tanti temi, eh, legati al territorio. Vediamo, vediamo se ce l'abbiamo il nostro... Abracadabra, buongiorno! Buongiorno! Oh, eccoci presidente, presidente Capacchione. Antonio Capacchione, sì. Buongiorno, buongiorno a voi. No, il lunedì è una giornata un po' particolare. Allora, presidente, io le chiedo una fotografia. Noi abbiamo analizzato con la mia collega Pina Giordano il turismo, il plus che sta avendo il turismo in questo periodo. Ci faccia una fotografia in un telegramma rapido su quello che sta accadendo nelle nostre regioni italiane e poi parleremo anche dei problemi. Ma c'è un grande aumento di turismo, quello che mi ha sorpreso è il turismo anche internazionale, che è ritornato in Italia, proprio attentamente. Quindi abbiamo registrato a giugno un notevole incremento rispetto allo scorso anno. Siamo ai livelli, in alcune località anche oltre il livello delle presenze nel... Questo dimostra che l'Italia è attrattiva, che i servizi che noi offriamo sono graditi. Se pensate che su dieci persone che scelgono le vacanze, sei scelgono il mare. Quindi la qualità e la quantità dei servizi che noi gli offriamo evidentemente sono graditi dal turismo sia domestico che internazionale. Guardi, noi dobbiamo andare necessariamente in pubblicità, se hai il piacere di rimanere con noi tra qualche minuto... Esatto, da un paio di minuti continuiamo la chiacchierata, presidente Capacchione, se rimane in linea. Volentieri, volentieri. Perfetto, a tra poco allora. A tra poco. Perfetto, a tra poco.